Protestano gli amministratori siciliani presenti alla fiera delle vacanze a Vienna nel corner dedicato all'isola che si trova proprio di fronte allo stand della regione Calabria dove il logo dell'Italia è rappresentato senza la Sicilia e senza la Sardegna. Una mancanza clamorosa. Sindaci e assessori di Erice, Sortino, Noto e Piazza Armerina sono rimasti increduli vedendo l'immagine dell'Italia senza la Sicilia. È un atto di scorrettezza istituzionale, hanno detto. L'assessore regionale al turismo Elvira Amata punta il dito contro la Calabria che ha sancito la secessione di Sicilia e Sardegna dal resto dell'Italia. La Calabria cancella i suoi principali competitor. Concorrenza sleale o errore di stampa? Chiede il leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca. C'è chi parla di colpevole omissione, chi di errore grafico. Nel tardo pomeriggio di ieri la regione Calabria ha provato a spiegare cosa è successo. È un'immagine stilizzata che ha il solo obiettivo di mettere il più possibile in primo piano la posizione geografica della Calabria, hanno spiegato. Noi però facciamo notare che per metterne in primo piano una ne hanno cancellato due.